I militari della stazione Carabinieri di Turi, con la collaborazione del personale del nucleo Carabinieri Spettorato del Lavoro di Bari, hanno svolto nei giorni scorsi un servizio straordinario mirato al contrasto dello sfruttamento del lavoro. Le ispezioni che hanno interessato cinque aziende agricole del territorio turese hanno dimostrato ancora una volta come il lavoro sommerso sia spesso una realtà del tessuto socio-economico della provincia di Bari. Gli stessi Carabinieri hanno scoperto su 56 braccianti identificati, di cui solo 7 stranieri comunitari e 6 di nazionalità marocchina, 11 lavoratori, tutti di nazionalità italiana, sono risultati occupati irregolarmente. La posizione più grave che i militari hanno riscontrato è stata quella di una ditta impegnata nella raccolta delle ciliegie presso la quale su 11 lavoratori identificati 6 italiani erano impiegati in nero. Ovviamente la ditta ha dovuto chiudere i battenti, un provvedimento, quello della sospensione dell'attività che viene adottato quando risultano assunti irregolarmente il 20% dei lavoratori. Caso specifico ne sono risultati più della metà. L'aspetto più allarmante è che le violazioni non riguardano sempre solo il contratto di lavoro, ma spesso interessano anche la sicurezza stessa dei braccianti, non solo per la accertata mancanza di protezione nell'uso di attrezzature idonee, ma anche per l'omissione della vigilanza sanitaria. Mancanze queste che comportano inevitabili sanzioni pecuniarie e per il titolare la denuncia all'autorità giudiziaria per violazioni in materia di lavoro.